Luca Ricciuti, dopo la debacle del PDL al primo turno dell'elezione amministrativa, adesso l'unica strada percorribile è quella di apparentarsi con Giorgio De Matteis? Sicuramente la proposta politica di Giorgio De Matteis è quella che oggi è per noi la più credibile. Il popolo della libertà deve impegnarsi e si impegnerà a che sia la proposta vincente. Lei ha detto stop alle polemiche, però dall'urna elettorale sono uscite alcune schede con dei voti abbastanza bizzarri. Sicuramente, questo è stato il frutto della divisione. La divisione non paga, la divisione ci ha ridotto all'8%. La divisione è qualcosa che oggi dovremo superare. C'è qualcuno che l'ha perseguita la divisione, c'è qualcuno che invece non si è reso conto di quello che stavamo facendo. Oggi c'è il modo e il tempo di recuperare questo errore. Ci sono 30.000 persone che non sono andate al voto, bisogna portarle alle urne? Sono fondamentali quelle persone. Oggi solo recuperando i nostri elettori, che spesso e volentieri non sono andati a votare, anche per le nostre divisioni e soprattutto per le nostre divisioni, noi riusciremo finalmente a dare dignità alla nostra azione politica. C'è una proposta politica in campo, che è una proposta di superamento rispetto a quello che è stato il momento amministrativo del centro-sinistra. Tutto ciò che non riguarda la gestione cialente, oggi ha la possibilità di trovare accoglienza nella iniziativa di Giorgio De Matteis, che sarà sicuramente affiancato da quella del popolo della libertà. A livello nazionale c'è grande ebollizione. Io credo che il popolo della libertà, per quanto mi riguarda, debba avere una conversione sulle politiche sociali e sull'attenzione ai disagi della gente diversa rispetto a quella che ha cercato di mettere in campo fino adesso.